Musica 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 Che vuoi fare, Jack? Sono un detective, un poliziotto Musica C'è un uomo molto malato in giro che ha ucciso brutalmente cinque ragazze e Jack Brenner si occupa del caso Trovi qualcuno che possa aiutarlo, adesso Musica Musica Devi dirmelo quando non ti ricordi qualcosa o non potrò aiutarlo Musica 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 Quest'uomo uccide una volta al mese Devi continuare a far scorrere i tuoi ricordi proprio come hai fatto ora Musica Nel buio della mente Sabato 20 e 50 in prima visione Rai 3 Musica Questa qui diventerà dottoressa in legge La facciamo diventare avvocato degli zingari Gli altri Storie, racconti, testimonianze di coloro che soffrono e di coloro che di questa sofferenza si fanno calco Gli altri Sabato 6 giugno ore 22 e 55 su Rai 3 Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.